quando c'è la salute vi ricordo il nostro appuntamento tutti i giorni alle 7 e 45 a mezzogiorno prevenire parlare di cure per essere in salute il nostro obiettivo noi ci prendiamo cura della vostra salute attraverso gli esperti che ogni giorno intervistiamo quando c'è la salute tutti i giorni su canale 21